Sono stati i momenti di terrore, quelli vissuti da Michela Gastal di 25 anni, finita fuori strada e caduta dentro il canale che costeggia via Prati a Vigonza in provincia di Padova. La giovane donna appare per evitare un gatto asterzato l'auto che stava guidando, una Fiat 500. La macchina senza controllo è finita dentro l'acqua. Michela è stata salvata grazie ad una pattuglia dei carabinieri che proprio in quel momento stava passando di là. Il comandante dei carabinieri di Pionca di Vigonza assieme ai suoi uomini era impegnato in un'attività generica per monitorare la sicurezza sul territorio. Sono passati lungo via Prati e guardando il fiume hanno visto l'auto dentro il canale. Non hanno perso tempo, sono scesi dall'auto di servizio e si sono tuffati dentro l'acqua. La ragazza era molto agitata quindi non riusciva a collaborare un attimino con noi per cercare di liberare la presa perché era un po' scioccata dall'evento. Quindi era incastrata con le cinture e la portiera abbiamo provato a forzarla però non si riusciva a aprire quindi abbiamo dovuto forzare il finestrino e tagliare la cintura per liberarla anche perché la macchina era ancora accesa e poteva verificarsi anche uno scoppio o un incendio. Quindi ci siamo preoccupati maggiormente di mettere in salvo la ragazza. Un intervento provvidenziale. Siete quasi stati degli angeli per lei. Siete passati di là per caso. Fidelian ci facciamo il nostro dovere quotidianamente, cerchiamo di renderci utili ai cittadini quindi il nostro dovere fa parte dei nostri competi istituzionali. Il giorno dopo l'avete incontrata? Sì, oggi era più tranquilla quindi è venuta anche a ringraziarci perché è stata molto grata con noi che siamo passati di là e siamo riusciti a evitare il peggio.